Isola dei Famosi, battuta a luci in diretta Pier Silvio Berlusconi prenderà provvedimenti? All'Isola dei Famosi, le battute di Paolo Nois e Marco Mazzoli in diretta TV fanno discutere. Soprattutto considerando la nuova linea editoriale delle trasmissioni targate Mediaset. Durante il collegamento per le nominate on con lo studio, Paolo Nois si è lasciato sfuggire alcune confidenze sul suo passato in un modo piuttosto colorito. Spiegando che a salvarlo dal baratro nel momento di maggiore successo sarebbe stato non l'amore. Come suggerito da Vladimir Luxuria, ma più la vagina. Tra chi difende la spontaneità del conduttore radiofonico e chi invece teme un provvedimento disciplinare per i toni scurrigli. C'è Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe imposto una nuova linea ai reality show delle sue reti. Caratterizzata da poche parolacce, zero volgarità, liti ridotte all'osso e toni contenuti. L'obiettivo sarebbe proprio quello di ridimensionare il trash e punire qualsiasi comportamento scorretto con la squalifica. Foto, ufficio stampa Mediaset, Shooter Stock Music, Corbena. Leggi anche, Vladimir Luxuria svela come stanno le cose tra Lari Blasi ed Enrico Papi, lo dice senza peli sulla lingua.